Ciao a tutti ragazzi, oggi in questa nuova recensione parliamo di sacchiappeli di mille e in particolare abbiamo qua il light down con temperatura comfort da meno 5 e sempre temperatura comfort a meno 5 però il Baikal 1500 adesso vediamo insieme pregi e difetti di entrambi sacchiappelo ci tengo a precisare però che all'interno della recensione andrò a utilizzare dei termini abbastanza tecnici se non li conoscete o se vi interessa l'argomento sacchiappeli un pochino più in generale vi lascio qua in alto a destra il video che ho fatto sui sacchiappeli con la guida all'acquisto così potrete capire i termini tecnici e togliervi qualsiasi curiosità riguardo ai sacchiappeli ora iniziamo la recensione iniziamo dal 1000 Baikal 1500 il 1500 è il modello Baikal con la temperatura comfort più bassa infatti esistono altri modelli il 750 e il 1100 che hanno naturalmente temperatura un pochino più alta questo sacco a pelo è fatto in sintetico infatti ha delle dimensioni che dire abbastanza esagerate è veramente molto grosso è paragonabile quasi a una tenda da trekking come dimensioni infatti la sacca è da 11 litri che è veramente tanto anche se vado a tirare tutti gli strap in qualsiasi caso le dimensioni si vanno a ridursi ma rimane sempre bello grosso e poi un sacco a pelo anche molto pesante qui parliamo di un chilo e 600 grammi però come vi dicevo ha una temperatura comfort per essere un sintetico davvero bassa a meno 5 gradi per l'uomo e sugli 0 gradi per la donna un aspetto che ho veramente apprezzato di questo sacco a pelo è la membrana esterna in K-Dry praticamente è una membrana impermeabile che evita che il sacco a pelo vada a inumidirsi durante la notte l'ho apprezzata davvero tanto soprattutto in quelle notti veramente molto umide o se si dovesse bagnare un po' magari in qualche tenda che soffre un po' di condensa ci evita di trovarci il sacco a pelo bagnato che quindi la temperatura comfort tende ad alzarsi perché il sacco a pelo non riesce più a tenerla parliamo un po' delle caratteristiche di questo bel sacco a pelo allora innanzitutto ha una forma a mummia diciamo regular non è troppo risicata c'è abbastanza spazio per muoversi è un sacco a pelo bello lungo è un 2 metri e 30 come lunghezza in questo particolare modello regular infatti io che sono alto 1 metro 90 sono stato dentro veramente molto bene penso che l'altezza massima di utilizzo sia giri attorno ai 2 metri 5 o 2 metri 10 per la persona è un sacco a pelo che ha una doppia zip ovvero un doppio cursore per poter aprirlo in determinati punti se vogliamo far uscire il caldo un po' come vogliamo noi e soprattutto la zip arriva fino ai tre quarti quindi è molto semplice anche riuscire ad entrare ed uscire dal sacco a pelo la cosa che mi è piaciuta molto per quanto riguarda poi la parte superiore quindi il cappuccio è la parte di chiusura come potete vedere qui abbiamo il nostro nastrino da andare a tirare da poter far sì che lo chiudiamo e mi è piaciuto particolarmente l'idea di mettere la chiusura proprio fosforescente questo qua è fosforescente e di notte riusciamo anche a trovarlo senza tanti problemi ha una piccola idea che però mi è piaciuta veramente tanto e restando a parlare della parte superiore di quello che è il collare attorno questo è preformato come potete vedere ma all'interno ha anche un ulteriore collarino che praticamente va a chiudere la parte alta una volta che noi ci chiudiamo il sacco a pelo addosso questo collarino va praticamente a chiudere quasi ermeticamente l'interno del sacco a pelo per evitare che possa uscire il calore che il nostro corpo è andato a sprigionare piccolo extra di questo sacco a pelo è che troviamo anche una taschina qua così dove poter andare a riporre oggetti che hanno bisogno di stare al caldo con queste per esempio le batterie è una piccola feature che però può tornare veramente molto utile in generale i materiali mi sono piaciuti è molto morbido dentro ci si dorme veramente molto bene anche a contatto con la pelle non dà fastidi non dà irritazioni che dire c'è tanta qualità comunque in questo sacco a pelo mi è piaciuto e ci ho dormito veramente molto bene attorno agli zero gradi quindi da questo punto di vista questo bike al 1500 è veramente un buon prodotto passiamo ora a parlare del light down da meno 5 anche per la serie light down abbiamo tre sacchi a pelo da 5 gradi zero gradi e questo qua da meno 5 meno 5 per quanto riguarda la temperatura comfort per l'uomo la temperatura limite temperatura comfort per la donna anche qua siamo solo zero però direi che come dimensioni qua è tutto un altro mondo in particolare in questo caso abbiamo una sacca contenitiva da 5 litri che possiamo naturalmente andare ulteriormente a schiacciare tirando gli strap abbiamo un valore di queen riferente al fill power di 700 e soprattutto questo sacco a pelo ha un ottimo rapporto tra la piuma e il sintetico infatti troviamo un 90% di piuma e un 10% solo di sintetico parlando un attimo delle caratteristiche di questo sacco a pelo innanzitutto parliamo della forma ad H con il quale è realizzato il sacco a pelo questo gli dà modo di poter garantire un'ottima comprimibilità senza andare a discapito però della sua termicità è un'ottima soluzione questa qua di mille perché comunque in poco spazio riesce a far stare dei sacchi a pelo anche da temperature abbastanza basse come sul modello Baikal anche su questo light down per quanto riguarda la chiusura del nostro collarino superiore troviamo lo stesso laccetto fosforescente e lo stesso identico tipo di cerniera cerniera come dicevamo ha due vie, ha due cursori cerniere anche qua fatte molto molto bene e all'interno allo stesso modo troviamo anche qua il collare per poter andare a isolarci completamente dall'esterno insieme anche qua in questo punticino ha una taschina dove andare a riporre i nostri oggetti parlando di materiali beh questa piuma innanzitutto certificata RDS che è molto importante e anche lui ha la membrana K-Dry in questo caso è veramente molto importante per questo sacco a pelo perché come sappiamo la piuma tende ad assorbire molto l'umidità e davvero una membrana esterna appunto che ne evita l'assorbimento sì diciamo che non è che non l'assorbe proprio cioè che possiamo mettere sotto l'acqua è una membrana che ne limita l'assorbimento cioè se noi comunque siamo una notte particolarmente umida oppure lo bagniamo naturalmente l'umidità l'andrà ad assorbire diciamo che questa membrana serve contro l'umidità di una notte un pochino più normale ecco e naturalmente questa membrana ci aiuta sia a farlo durare di più nel tempo visto anche il prezzo di questo sacco a pelo ma soprattutto quello di poterci garantire un'ottima termicità e di non avere problemi che umidificandosi il sacco a pelo va ad avere una temperatura comfort più alta ma come ci abbiamo dormito all'interno di questo sacco a pelo? allora questa è una forma a mummia molto resicata davvero cioè sul finire diciamo da dove più o meno va a cadere la nostra vita in giù è veramente molto molto stretto in questo sacco a pelo ci si potrebbe un po' soffrire di claustrofobia perché è veramente stretto è un sacco a pelo non tanto lungo infatti io che sono un metro e novanta non ci sono ben stato penso che un metro e ottantacinque sia l'altezza massima per le persone che lo vogliono utilizzare infine per quanto riguarda la chiusura all'interno della sua sacca come sappiamo molti sacchiappeli a mummia soffrono della comprimibilità e quindi è diventato davvero difficile uscire insieme all'interno della loro sacca io con questo non ho avuto particolari difficoltà e in meno di un minuto lo vado a richiudere senza tanti problemi perciò tiriamo le conclusioni di questi due sacchiappeli iniziamo dal modello Baikal ve lo consiglio? no diciamo la verità no per il semplice fatto delle dimensioni del peso come vi dicevo è veramente troppo grosso sembra quasi più un sacco a pelo da campeggio piuttosto che da trekking va bene che ha una temperatura a comfort sicuramente molto bassa infatti è difficile trovare dei sintetici che abbiano una temperatura a comfort così bassa e certo non si spingono sotto lo zero termico però proprio perché si è spinto sotto lo zero termico ha una dimensione davvero fin troppo grande cioè praticamente come dicevo è grosso come una tenda da trekking e no non ve lo consiglio proprio per le sue dimensioni e il suo peso anche se il prezzo ha il rapporto sicuramente buono perché è un sacco a pelo da meno 5 che si può comprare sui 100-110 euro beh il prezzo è veramente molto concorrenziale per quanto riguarda invece il modello light down beh questo sì ve lo consiglio perché le dimensioni sono piccole cioè è un sacco a pelo decisamente piccolo non presenta difetti rilevanti l'unica cosa naturalmente è il prezzo cioè qui parliamo di un sacco a pelo a mummia di un sacco a pelo che costa sui 200-220 euro ecco il prezzo del sacco a pelo in piuma quindi non ci si può andare molto lontano la differenza dei 100 euro tra l'uno e l'altro naturalmente è la piuma e con questo poi tutto il resto delle caratteristiche perciò ragazzi nella speranza di essere stato esauriente e esaurativo anche per questo video io vi ringrazio per averlo guardato e ci vediamo al prossimo ciao